Ora la faccetta nera. Dopo che la faccetta nera mi fa bell'addio. Significa che il mio bell'addio era quando stavolta, quando fuo 40 a queste europee, che partivano tanto, 500 alle partite, che vuol dire? Lo spiego, no? Si. Allora, tanto c'erano i fidanzati. I fidanzati, chiamati i fidanzati, li accompagnavano i fidanzati, dove andavano 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 i fidanzati. Allora, poi andavano a cantare una canzone. 500 alle partite, le picciotte saporite, come piangono le fidanzati, che picciotte non c'erano più. E l'anserata è fatta, ci mancano i fidanzati, mamma, voglio fidanzati e mi voglio. Guarda te. Questo è quello che ha fatto usare. Sì. Poi c'è la faccetta nera. Questa è la cosa, mamma. La faccetta nera, proprio sì. Before I Capito le 판ite, zero pe la matta! Questa è la cosa, quella che prende i fidanzati, la faccetta dove qu know di nel regenera, La faccetta e quali sono le cose con ci stoppeta! That's oommità. the valutare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa è la signora, sono erogata. Bravo. Mi sta becca.